E' da st'estate che noi stiamo senza acqua calda. La devo scaldare, scaldare il gas, ma come fa con il gas a scaldare un po' d'acqua? Non siamo morosi, paghiamo regolarmente le utenze, eppure siamo senza acqua calda da oltre un mese. E' questa la denuncia di alcuni dei residenti dei complessi residenziali dei progetti case di Roio 2, cittadini esasperati per un problema alle caldaie dell'impianto, che con l'arrivo della stagione fredda ed il brusco abbassamento delle temperature sempre più rigide, diventa insopportabile. Sembra un copione già visto. All'ufficio competente del Comune dell'Aquila, l'ente che gestisce gli immobili antisismici, ci rimpallano al numero verde, al quale però gli operatori rispondono una volta su dieci. La situazione è questa, che siamo due anziani, tengo mio marito in palido, qua alla sede a rotelle da marzo, che io tengo la sede a rotelle, e non ci sta l'acqua calda, paghiamo tutte le bollette, perché non ce le mandano? Io personalmente cercavo in qualche modo di lavarmi anche con l'acqua fredda, quindi io non è che spreco anche sul fornello a scaldare l'acqua, ci si faceva con l'acqua fredda, perché vuoi o non vuoi, noi ci dobbiamo lavare, cioè non è che può stare senza lavarti in un mese, come si fa? E così tra chi l'acqua ha provato a scaldarla sui fornelli della cucina e chi invece ha sfidato l'acqua gelida sotto la doccia, il problema appare sempre lo stesso. In molti appartamenti, costati cinque volte tanto il prezzo di mercato, gli impianti sono fatti male e funzionano poco, e per chiamare un tecnico a riparare il danno o l'anomalia è sempre un'impresa. Personalmente sono stata due volte a parlare al comune, all'ufficio dove loro gestiscono questi progetti casa, e mi hanno detto signora c'è un numero verde a cui lei deve telefonare e io gli ho spiegato molto gentilmente che a questo numero verde per dieci volte mi hanno preso in giro. E lui mi ha detto io non ti posso fare niente, ho detto come tu sei il proprietario, perché il comune è il proprietario di queste case, quindi nel momento in cui il numero verde ti prende in giro dovrebbero intervenire loro, anche perché qui si paga, non siamo amorosi, noi paghiamo.